Ciao a tutti, come state? Come sta il tuo cuore? Riesce a sentire quello che il tuo cuore ti sta chiedendo? In nostri giorni, molti vivono in un clima costante di insoddisfazione e mancanza di gioia e pace interiore. E per questo cercano come un mezzo di insoddisfare e desiderare del loro cuore. Si sposano, arrivano a un meglio livello finanziario, concludano un altro curso, trovano un nuovo lavoro, acquistano una nuova auto, un appartamento migliore, eccetera. E finalmente scoprono che la parte che stavano cercando non era nessuno di questa cosa. È vero che ognuno di questa cosa ha il suo valore porta con sé un grado di insoddisfazione e sattietà, ma non satisfà e desideri più profundo del nostro cuore e della nostra anima. E questo perché solo una cosa, può davvero portarti piena soddisfazione, gioia e pace interiore. E questa cosa è la presenza di Dio. Gesù disse ai suoi discípoli con le sue parole di a Dio, nel Evangelio di Giovanni, capítulo 14, versetto 27, Vi lascio la parte, vi do la mia parte. La parte che io vi do non è come quella del mondo. Non vi preoccupate, non abiate paura. Guarda che la parte che il mondo offre è fuggate e imperfeita. Solo Dio, attraverso Gesù, ti dà la vera parte che la nostra anima desidera e che il nostro cuore ha bisogno. Ma la tendenza naturale, quando ti sentiamo angustiati, impauriti, insoddisfatti, senza pace interiore, è cercare nella cosa del mondo, ciò che pensiamo che possa portarti pace e gioia. Ma alla fine scopriamo che manca ancora qualcosa, che rimane un voto nel nostro cuore. E se pensiamo per un momento e ascoltiamo meglio il desiderio del nostro cuore, e il nostro cuore, allora potremo scoprire che quello che sentiamo di insoddisfazione, angustia e l'ausenza di pace interiore è in realtà un grido del nostro cuore, è un desiderio del nostro cuore per la presenza di Dio. Ti viene come un avote, che ti invita a cercare la presenza di Dio. Come succede con Davide, quando dice nel Salmo 27, versetto 8, e il mio cuore dice da parte tua, venite a me, e vengo davanti a te, Signore. Ma come venire alla presenza di Dio? Come entrare nella presenza di Dio per godere di questa parte? Lo facciamo attraverso la preghiera nel nome di Gesù. Sappiamo che la causa del peccato, una imitizia, è arrivata come un abisso profondo, ampio, che ti separa da Dio. Ma Dio, con la sua infinita misericordia e amore, ti offre un mezzo di riconciliazione, un ponte che stabilisce la pace tra noi e Dio, è stato construito da Dio per dare il accesso alla sua presenza. E questo ponte è Gesù. Siamo accettati e riconciliati con Dio per il sacrificio che Gesù ha fatto per tutti noi. Come dice Paolo in Romani, capítulo 5, versetto 1, Dio dunque ha accettato come suoi noi che abbiamo creduto. Perciò ora siamo in pace con Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è attraverso questo ponte, cioè attraverso la fede in Gesù, che possiamo venire alla presenza di Dio. E questo processo avviene attraverso la preghiera. Allora, la prossima volta, che sentire questa affliczione di anima. Cerca di ascoltare bene il tuo cuore. Cerca di discernere ciò che ti sta dicendo. Magari questa mancanza di pace che sente, è il tuo cuore che ti dite che ciò di cui veramente hai bisogno. Non è andare a un'altra parte, comprare un'altra scarpa, cambiare profissioni, lavoro, partner, eccetera. Ma cercare la presenza di Dio. Quello che davvero hai bisogno è la pace che solo Gesù e il principe della pace può dare. Quindi, non perdere più tempo con cose che ti distraggono, prega Dio. Atraversa il ponte della pace. Venga alla presenza di Dio. Tramite la fede in Gesù. E così potrà godere della piena pace e gioia interiore alla presenza di Dio. Che Dio ti benedica, in nome di Gesù. Amè.